Bene, quest'oggi ci sfidiamo ad una sfida davvero interessante e super divertente Praticamente dobbiamo creare delle spade per arrivare però alle spade più potenti mai esistite Guarda, 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 guarda questa cesta Allora, abbiamo delle ricette Si parte da una spada di legno che purtroppo vale un solo dollaro È abbastanza povera Poi abbiamo la spada di pietra che vale 100 dollari che già non è male Dopodiché si arriva alla spada di ferro che vale 10.000 Che è già tanto, tanti soldi Ma alla fine, Fere, si crea la spada di diamante per me e la spada arcobaleno per te che vale un milione di dollari Ma è tantissimo Lo so, il nostro obiettivo sarà quello di creare tutte queste spade e affrontarci alla fine E ti dico, le spade finali avranno anche delle abilità segrete che non so neanche io che cosa fanno Ma dovrebbero essere bellissime, quindi sarà una sfida davvero interessante Vabbè, dai, iniziamo a costruirle allora, come dobbiamo fare? Aspetta, aspetta, aspetta Qua c'è un libro che dice aiuto, noi abbiamo sempre bisogno di aiuto Quindi leggiamolo fin da subito Meno male Allora, numero uno Usa l'ascia, tasto destro, su un blocco di legno a sei facce Per avere la legna che ti serve per craftare la spada da un dollaro Numero due Puoi trovare la polvere di ferro uccidendo i creeper Numero tre Puoi trovare i cristalli uccidendo i shadow e bello Ok, allora credo che il terzo aiuto fosse abbastanza troll Forse abbastanza inutile, Steph Eh già, per quanto riguarda i primi due non credo che abbiamo troppi problemi Comunque, partiamo prendendo ognuno la propria ricetta di spada di legno E vediamo un po' perché Esatto Uh, bella Diceva che devi usare l'ascia facendo tasto destro Che è un qualcosa già di particolare, non è il solito Minecraft per intenderci Quindi dobbiamo capire bene come funziona Certo Allora, per adesso credo che dobbiamo prendere della legna E farci l'ascia E farci l'ascia, esattamente Quindi molto classico, fin qui ci arriviamo tutti Esatto, per ora non sarà una gara perché partiamo con un po' di riscaldamento Quando andiamo alle spade avanzate diventa una gara Perché poi si va all'arena Perché qua c'è un bottone per andare in un'arena E a quel punto dobbiamo fightare Ah, bellissimo Allora lì sì che saremo nemici, cara mia Sai che questa mappa è tutta completamente in vanilla? Davvero? Sì Com'è possibile, Steph? Non lo so, fighta adesso sul tronco e guarda Adesso io vado qua, aspetto in questo tronco qua Eh? E poi lo devi spaccare Ma è bellissimo Lo so, è fighissimo È bellissimo questa roba, è una magia, Steph Assolutamente sì Ok, se non ricordo male ne servono solo due Sì, infatti, infatti Ok Hai notato che non si crea neanche come una spada normale? Molto particolare No, no, cosa c'è di differenza? È storta Ah, ok, però a me non funziona Come non funziona? A te sì? Sì, l'ho creata, guarda Aspetta, c'è qualcosa che non va Questo dimostra che sei un po' più scarso di me Ma scusa Uno stick Io l'ho già creata E due spruce planks Esatto, quelli trasformati però, non ti confondere Ah, forse mi stavo confondendo No, guarda Ma Steph, non ti vuoi Si chiamano Stripped Spruce Log, giusto? E non lo so, io li ho utilizzati Penso di sì che siano quelli Tieni, Steph, ti prego Tieni No, non lo posso Te l'ho creata io No, non li ho trasformati Adesso me l'ha creata, te lo giuro Ok Te lo giuro Io ho semplicemente presi dall'albero così e li ho fatti Ok Allora, qui ne abbiamo la nostra spada Che fa 4 di attack down Fa proprio schifo Ok, non c'è molto da dire Appoggio via questa ricetta Perché tanto ormai l'ho utilizzata E vado a prendere quella di pietra Per fare quella di pietra Serve la spada che abbiamo già craftato Un bastoncino E poi sia un po' di... Ok Ok C'è una miniera, eccola qui da qualche parte Sì, sì, sì Perché sicuramente Allora, però dobbiamo farci il piccone Esatto In effetti, non è mica finita È quello che ti stavo per dire Mamma mia, che faticaccia Sì, non sarà per nulla semplice arrivare alla spada più potente di Minecraft No, assolutamente Non sarà proprio per nulla, per nulla semplice Guarda, Steph Cosa c'è? Siamo in un mondo strano qui Fammi vedere, sono curioso adesso Ci sono minerali particolari Non penso ovviamente di poterli prendere col piccone di... E questo bottone? Di legno Non lo so, non l'ho premuto Lo premiamo? Vai Ho paura No Picchia, Ferre, picchia Ma abbiamo usato le spada in legno Questa non è una bella cosa Questa spada da un dollaro è proprio schifosa Non sarà semplice chilarlo, te lo dico Maledetto guardia Vieni qua Ferre, temo che... Ok, no, è andata bene Ce l'abbiamo fatto, è andata bene Ok, mi sono già preso questi materiali Che magari saranno utili per dopo Però non è quello che dovevamo fare adesso Allora, per ora, Ferre Devi prendere della cobblestone Dopodiché dovrei creerti la fornace Cucinare questa Ok E creo il blocco diverso Eh già Quindi devo un pochettino abbondare Ho capito, ho capito Eh già, esattamente Allora, io mi sono creato un piccone di pietra Così dovrei andare un pochettino più tranquillo Creo già anche la mia fantastica fornace Perfetto Allora, il problema è che forse non ho farmato così tanto Forse dovevo andarci un po' più cattiva Non lo so Adesso, cosa dite? Uso il legno? Allora, un po' Però questo... Ah, vabbè, ok Allora, 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 allora Quanto me ne serve? Ok, uno, due, tre, quattro Ma quello dove lo trovo però? Quanti me ne servono? Un blocco e poi quattro giusto? Normali? Mi sembra Non lo so Tutto strano qui, Steph Secondo me non sono neanche i blocchi giusti Questa è tipo la stone Non la co... Non lo so, è diverso graficamente Quindi non vorrei che poi... Allora, io mi sto creato la stone Quindi adesso devo soltanto crearmi l'altro tipo di blocco Che devo essere sincero Non mi ricordo come si fa Guarda, alla fine non ho neanche dovuto googlare Perché mi sono più o meno ricordato E sono riuscito a fare Che bravo, Steph Lo so fare però non mi vorrei Comunque avevo ragione Non mi basta minimamente quello che ho preso Quindi torno un attimino in miniera Questa spada è già più difficile Cioè la prima è stata semplicissima Siamo passati subito E una spada complicata Vale per sempre 100 dollari Allora andiamo a fermare Cioè non è che sia tantissimo Ma non è neanche così poco Cioè per strada non te li regala nessuno 100 dollari Quindi anche su Minecraft non te li regala nessuno E vabbè ma dai Non che sia di così tanto valore Vabbè mi metto qui a fermare Speriamo di far veloce Di non cerci tutta la giornata Io sono a due E me ne servono quattro Quindi aspettiamo questi due E abbiamo tutto per creare la spada di pietra Mi sa che si fa Ok mettiamo questa a fare Così Questa qui Che bello S'ha fatta Con questo mi faccio i blocchi Perfetto Ok Ho la mia bellissima spada di pietra A questo punto Deposito la spada di pietra Vado a prendere la spada di ferro E ne manca solo una A fare quella bellissima Vediamo un po' Ufff Io devo ancora aspettare Che qui cuocia la stone Qui abbiamo diversi problemi Cara mia Cosa ci sono cose strane Eh Non ho ancora guardato la prossima Eh Qua abbiamo diversi problemi Credo che quella sia la polvere di ferro Allora lo zucchero è semplice Il ferro è semplice Ma la polvere di ferro da trovare a Amazon di Creeper Mi spaventa non poco Allora vediamo un pochettino Dove cavolo potrei trovarla Io nel mentro ho fatto finalmente la mia spada di ferro Ok Però adesso come facciamo le altre cose Non lo so da dove facciamo comparire dei Creeper Non lo so Perché qui abbiamo solo lo spawn di quei guardian Che al momento non credo ci serva nulla Eh no infatti E quindi cosa dobbiamo fare Aspetta qui Qui Steph l'ho trovato Dove C'è un bottone da premere Era verde come i blocchi Quindi era un po' nascosto Però secondo me è questo Sì è palese Eh infatti infatti Ok divertiti Fere Ecco qua Allora non mi è dato nulla Quindi mi è andato pure male Ok Continuiamo Sai che ne serve anche tanta di polvere di ferro? Non mi esplodete sempre in faccia Se ti esplodono Credo che non droppino nulla Fere E quindi come devo Eh sì infatti non mi stanno droppando niente Oh mio Dio Il problema è che esplodono questi Steph No 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 Calmati Che miseria Steph E meno male che non bucano tutto Allora Fere ti puoi togliere Come faccio non farli esplodere? Esplodono subito Sono delicatissimi Così È un balletto con i creeper Ok sì vabbè Però io voglio combattere subito Non stare qui ad aspettare Vedi? Ecco infatti Quanto te ne ha dato? Spero tantissima Steph Allora ok Non esplodere Ah ma questa è la polvere di ferro Io ho fatto dello zucchero Per nulla E allora Steph non so cosa stai dicendo Ti prego Problemi Fere Problemi su problemi Polvere di ferro È giusto così Che stai a dire? Sì ma quegli altri cosettini Cosa sono? Eh non lo so Eh Te ne chiedi Allora due Due c'è io Ah c'era un nugget Non li avevo riconosciuti Ok 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 Tutto a posto Tutto a posto Allora Io ho già tutto Come mi devo fare il ferro? Dove andare a formare il ferro? Sì Io ho già tutto mi sa Vediamo E come si fanno i nuggets? Metti un lingotto di ferro nella crafting e sei già a posto Ah ok perfetto Quindi mi ricrevo dei bastoncini Ne metto uno qua Quanto serve di ferro? Poi metto la polvere di ferro così Due e tre nuggets La spada di pietra che mi ha fatto già creare Due e qui Mamma mia ragazzi Sta diventando difficilissimo Tre così E abbiamo la nostra spada Da diecimila dollari Arrivo pure io Fortuna qua è pieno di ferro Quindi neanche ci devo passare troppo tempo Adesso viene il difficile Ricetta Spada No ma aspettami Stef Lo sto creando pure io E che mi frega È un maledetto Ah mi serve anche il carbone però Allora Per cuocere il ferro Oh mio Dio Questo basti Servono i soldi Andiamolo da qui Speriamo basti Servono i diamanti Servono i prismarine Giusto sono i prismarine questi Sì sì Che è facile E serve la nether star E questo mi sa che ci serve dopo Ok Perché di fatto non mi sta chiedendo nulla di simile a me Ok Quindi questa la ricetta della polvere magica Non ci serve in questo momento La riappoggio qua Stai dicendo cose stranissime Sono un archivista Eh sì ma più o meno Allora io qui cerco di abbondare un pochettino Perché non voglio rimanere senza i materiali necessari Sembra un'ambulanza Infatti Basta Stef Che succede? E' un'allarme per le bombe Niente ecco ho capito cosa devo fare Noi abbiamo Il bastoncino Abbiamo un prismarine su due Le se vede per l'altro La spada di ferro ce l'abbiamo I soldi li ho fatti Due diamanti mi sono avanzati E per fare la nether star abbiamo detto Che ci servono Quattro lingotti di ferro Che abbiamo E un lingotto arcobaleno Che secondo me Sono già riuscito a creare Ferro io ho praticamente finito Secondo me Siamo pronti Secondo me Abbiamo la nostra spada di diamante da un milione E possiamo finalmente prestare a fare Vediamo un pochettino Io ho però fatto quella di ferro Stef Me l'ho dato super indietro Allora come posso fare Con l'arcobaleno Adesso hai fatto quella di ferro Sì Ma ti devo aspettare per due ore Ma non è possibile Quello che ti sto dicendo Le cose sono lunghe Ho già vinto la sfida Senza bastonarci Ho già vinto Devo mettere questi così Fare questo così Abbiamo la nostra fantastica nether star Poi Dobbiamo pensare adesso di nuovo A rifare tutta la cosa di crafting Quindi tacchete Tacchete Ragazzi Sto andando benissimo Questa volta Eh no Faticaccio è incredibile Fare queste spade Stef Le avrei preferite Già pronte E ci saremmo affrontati Picchiati E' arrivata me ne vado Allora ecco finalmente I blocchi arcobaleno Cosa c'è che non fa? Io ne prendo un sacco Sono bellissimi Consolini Ah Mi stavo confondendo Mi è venuto un infarto Oh mio Dio che paura Oh mio Dio che paura Creata Stef mi stanno apparendo cose strane Che ti succede? Allora Sei velocissimo Sì I poteri sono migliori di quanto pensassi Sono tipo super mega veloce E ho tantissima vita E c'è scritto Puoi usare i tuoi poteri Con Q Ed F Allora Q Cosa? Sono venuto a vedere la tua spada È bellissima F? No Stef Non fare cose strane Queste sono cose troppo forti Ma mi sta auto uccidendo Da quanto è potente Io me ne vado via Me ne torno nella miniera Questo è un posto pericoloso Aiutatemi Non dovrò mai più premere F No assolutamente Sono morto Bravissima Ah perché l'avrei dovuta poi disabilitare Capisco E invece Q La tiro? Stef l'hai data me No Sì Aspetta la ritiro con Q Ti dovrebbe tornare No non ti torna Non ti torna Ma perché l'hai data a me? Com'è possibile? È perché io l'ho lanciata Perché hai il potere di lanciarla Per occupare la mia spada Vieni a riprenderla Dammela Tieni Ma non riesco più a ridartela Com'è possibile? Devi metterla in una cesta Eh se riuscissi a pompermi Sono troppo veloce Come faccio ad uscire? Stef mi è intrappolata E stavo finendo la mia spada E tagli la spada così rallenti Non posso toglierla Ah così sì Certo che puoi Aiuto che paura Qua è proprio toccata in testa Che paura Allora Fere Dato che nessuno vuole stare qua Ad aspettare altri dieci minuti Che tu crafti la tua fantastica spada Metti questa qua nella cesta No io la rubo e me ne vado Ciao Stef No metti la qua Basta è una faticaccia qui Tieni Ok Adesso vieni con me Vieni 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 Dove stiamo andando? Devo finire Stef Non rompere Tranquilla In questa cesta secondo me Non scelgo Aveva previsto che tu avresti avuto problemi Mi ha messo la tua spada Eccola qui Grazie l'ho appena creata Sì bellissima Quindi adesso risali da qua Dove sono io? Grazie non scelgo Che sa bene quanto sono incapace Molto gentile Sì ma io lo vivrei come un problema Al posto tuo No per niente Sì sono al posto con me stessa Allora Andiamo all'arena quindi Sì hai provato le tue abilità speciali? No le provo mentre sono all'arena Perché altrimenti faccio un disastro Ok sei pronta? Allora aspetta aspetta Che ho fatto? Non lo so Aiuto Fede Dimmi Stef Mi sembra un po' troppo potente Quella mossa Quando mi muovo I fulmini Aia che male È bellissimo Stef sto prendendo fuoco Sono morta Perché la devi disabilitare Ripremendo il tasto Aiuto Che patica Che paura Che faticaccia Stef Aspetta che devo tornare Sono morto bruciato Sappilo Anche io Ok Aspetta che ci metto un sacco A tornare nell'arena Eccomi qua Mamma mia Poi praticamente mi muovevo I fulmini mi seguivano Quindi facevo proprio Un disastro incredibile E la coda c'è cosa fa a fare? Eh non lo so Aspetta È sempre per lanciarla no? Eh ma adesso tu hai la mia spada? No io ho lanciato la mia Ma l'ho persa Eh ce l'ho io Ma tu non hai la mia? No Perché mi hai fatto premere il cuo? Abbiamo perso le spade Taffri dammi la mia Vedi che non ti la posso dare È un po' strana Ah ok me l'hai ridata È la tua? È cancellata dal mondo No Steph Bene Devi riprenderla No uccidimi Dove sei? Se ti do un colpo e basta Che succede? Ma no No io pensavo ti distruggesse tipo No Un colpo e ti muori Vabbè tre colpi Tre colpi Spada da un milione Quindi la mia spada È scomparsa dal mondo Non so se esattamente Dove sia finita Perché Ferre Ha usato la sua abilità segreta Per farmela sparire Speriamo che il video Vi sia piaciuto Era una davvero bella Questa spada Molto bella E era stato divertente E craftarle comunque Davvero davvero carino Ci fermiamo così Qua sotto come sempre Con voi altri video Iscriviti al canale Campellina E ci vediamo in un prossimo video Ciao ciao